Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fanno e si confrontano cose sul bello, sulla bellezza e fanno cose belle. Quindi io vi li presento e li ringrazio personalmente. In particolare abbiamo qui il signor De Maio che ha un'azienda ma sarà lui poi evidentemente a dirci cosa fa questa azienda. Un'azienda che dialoga con il mondo della ristorazione. Vedremo perché. Abbiamo qui Luca Girardi che è titolare di una cantina della zona Doc G, la zona appunto del Prosecco di altissima qualità riconosciuta nel mondo. Abbiamo evidentemente il signor Morandini, chi di noi, chi di voi a Treviso non si è formato sulla sua vetrina in centro per intenderci di fronte alla Casa dei Carraresi, per apprezzare la bellezza di quelle vetrine. E oggi tra l'altro lui ci diletterà in particolare per 25 ragazzi con un workshop in cui ci dirà in maniera ulteriore come si fa una vetrina. In una struttura alberghiera ma anche in un negozio che deve vendere il bello, la cosa bella. E poi abbiamo con noi, chiedo scusa, doveva essere presente la dottoressa De Gennaro ma abbiamo il direttore marketing della Spumador S.P.A. voi siete piccoli, anche io non ne ricordo ancora, non ne ricordo bene il brand principale, però vedo delle persone adulte in sala, chi di noi non ricorda la spuma famosa, no? Gli anni 50, quella spuma che è una bevanda che viene proprio inventata da Spumador S.P.A. che abbiamo l'onore oggi di avere con noi e che ci diletterà anch'essa con un workshop su come si innesta il brand, questo brand evidentemente, ma il brand dell'acqua perché sta diventando un brand. Ho la fortuna un po' di vedere la altissima ristorazione. Mi colpiva per esempio poco tempo fa in un ristorante abbiamo una carta delle acque con 23 addirittura tipi di acqua diversa, quindi lo dico ai futuri sommelier, quando noi insegniamo appunto a essere sommelier insegniamo sia la proposta del vino o delle birre, ma bisogna andare sull'acqua in maniera particolare. Quindi ringrazio il direttore marketing dell'azienda Franco Costaiola che ci ha onorato dalla sua presenza. Da dove partiamo? Sulla mia sinistra, poi alla mia sinistra ma ne arriveranno altri due, perché sono in viaggio, sono già arrivati a Treviso e qui colgo l'occasione per ricordarvi gli orari dei workshop di oggi pomeriggio. Alla mia sinistra è presente un grande chef del territorio, Cristian Mometti, il quale anche egli oggi farà un workshop. E stanno per arrivare gli altri due chef stellati, Alberto Faccani del Magnolia di Cesenatico e Lania Ross del Lisa Franco di Sloveno, una stella Michelin. Però io volevo partire con questi ospiti che per quanto ci riguarda sono dei portatori di interesse, in inglese gli stakeholder per la nostra scuola. Volevo partire da un tema, da un tema che rappresenta anche la lettera iniziale con cui voglio un po' inoltrarmi nel discorso. Tra gli invitati avevamo, e forse le ragazze e le donne presenti in sala conoscono il brand, avevamo invitato anche un brand, per quanto mi riguarda molto importante in Italia, che sta lavorando sul lusso, sul bello che diventa lusso, poi vedremo che cos'è il lusso. Però avevo invitato appunto la Lugio Luxury, la Lugio nella figura del presidente che è Bruno Nardelli, che ci manda un suo messaggio e da cui volevo partire oggi insieme ai relatori. Ve la leggo. Cari amici, purtroppo oggi non sono riuscito ad essere qui con voi e prendere parte a questo interessante convegno. Perché come azienda esponiamo al salone del gioiello contemporaneo, mondo prezioso, dove abbiamo presentato tutte le novità degli orologi e dei gioielli di Lugio Luxury, USA Polo Asn e Davin Milano. Avrei voluto parlare di cos'è per me il bello. Il bello per me è innanzitutto la possibilità di godere di un bene. Oggi più che mai. Siamo sicuri che un gioiello da 100.000 euro sia così bello se non possiamo permettercelo? Certamente esteticamente sarà un'opera d'arte, ma il bello oggi è un'altra cosa. Oggi il bello per me è poter vivere l'esperienza del lusso accessibile, fatto di prodotti di ottima qualità a prezzi attenti alle esigenze del mercato. Come Nardelli Luxury ci siamo posti questo problema. Ci siamo detti, dobbiamo permettere anche a chi può o vuole spendere meno di 200 euro di godere del bello, del gusto e dello stile italiano nella gioielleria. Il bello per me oggi è il lusso accessibile, di linee come Lugio Luxury e Diven Milano, dove i nostri gioielli sono in argento 925, pietre semipreziose e non in acciaio, o in leghe che creano anche strane allergie. Insomma, oggi dobbiamo attualizzarci al contesto, comprendere le criticità di questa crisi e provare a vedere la fine. Un caro saluto a tutti e perdonatemi ancora per non essere lì con voi. Bruno Nardelli. Io lo ringrazio, ma da lì volevo partire in particolare col signor De Maio che cos'è il lusso per un'azienda come Zafferano che vedremo cosa produce.